Geoforce One permette di definire sezioni rettangolari selezionando la voce Crea sezioni rettangolari in cemento armato dalla tendina Sezioni sulla barra del menu o cliccando direttamente dalla barra delle sezioni in cemento armato. Una volta eseguita tale operazione, il software apre una finestra di dialogo in cui l'utente può nominare la sezione, assegnare il tipo di calcestruzzo presente e inserire i dati geometrici della sezione quali larghezza, altezza, copriferro e raggio di curvatura. Aprendo la tendina Acciaio è possibile inserire il quantitativo di armatura longitudinale e di staffe presente, nonché il tipo di acciaio utilizzato. La disposizione delle barre longitudinali può essere assegnata inserendo barre uguali poste alla medesima distanza, barre di diametro differente lungo il bordo orizzontale o verticale della sezione, selezionando l'apposita voce e compilando la finestra di dialogo che si apre, in cui l'offset rappresenta la distanza in millimetri delle barre da aggiungere rispetto al baricentro della sezione, o infine aggiungendo barre di diametro differente lungo il bordo verticale della sezione selezionando la voce barre extra verticali e compilando la medesima finestra o aggiungendo delle barre puntuali selezionando l'omonima voce. Si procede quindi all'assegnazione dell'acciaio delle staffe, del loro diametro e del relativo passo. In ultimo si definisce il tipo di rinforzo utilizzato per la sezione. Il software permette di introdurre per le sezioni rettangolari un sistema di rinforzo GeoSteel, attivando l'apposita finestra in cui si inserisce il tipo di materiale composito utilizzato, il numero degli strati, la larghezza e l'offset del rinforzo. Per facilitare l'implementazione GeoForce 1 consente di definire i rinforzi su metà sezione per poi specchiarli rispetto l'asse di simmetria ortogonale. Il rinforzo a taglio GeoSteel può essere definito attraverso la relativa schermata in cui va inserito il tipo di materiale composito utilizzato, il numero di strati presenti, la tipologia di rinforzo se a U o in avvolgimento e l'orientamento delle fibre. Bisogna inoltre indicare se il rinforzo è continuo o discontinuo, inserendo in questo caso la larghezza e il passo del rinforzo. Nella tendina Varie l'utente può inserire alcuni parametri che permettono di modificare i settaggi di default di GeoForce 1. Il rinforzo GeoSteel per il confinamento può essere definito nell'apposita schermata inserendo il tipo di materiale composito utilizzato, il numero di strati presenti e l'orientamento delle fibre. Bisogna inoltre indicare se il rinforzo è continuo o discontinuo e in quest'ultimo caso è necessario inserire la larghezza e il passo del rinforzo. Il software permette anche la definizione delle caratteristiche del rinforzo a torsione, per cui vanno implementati i medesimi parametri visti per le altre tipologie di rinforzi. Qualora l'utente volesse definire una sezione in cui un dato sistema funga sia da rinforzo a taglio che a confinamento e a torsione, occorre spuntare sulle voci analisi a taglio per il confinamento e per la torsione. Si noti che il programma permette di utilizzare per i vari rinforzi qualsiasi tipo di GeoSteel ed è quindi cura del progettista l'abbinamento di matrici compatibili. Se si intende intervenire aumentando la sezione, l'utente è tenuto ad accertarsi che il rinforzo GeoSteel sia disattivato, spuntare la voce Ringrosso Sezione, indicare la larghezza del ringrosso, nonché il tipo di geomalta impiegata, e definire il quantitativo e l'acciaio utilizzato in caso di armatura integrativa. Creata la sezione rettangolare, è possibile modificarne le caratteristiche assegnate, entrando nel menu ad albero e cliccando con il tasto destro la riga con il nome della sezione in esame.